Vi saluto, miei cari, sono Kryon, del Servizio Magnetico. Ci sono molte domande sulla vita e su come funzionano le cose. E questa volta, nello specifico, stiamo parlando del futuro. E questo è, infatti, il quarto episodio sul futuro. E la domanda è, Dio controlla il vostro futuro? La maggior parte di voi dirà, no, non penso sia così. Ma c'è un ampio gruppo che direbbe, sì, noi crediamo in questo. E c'è un altro gruppo ancora, che è molto intellettuale, che direbbe che la vita deve essere una simulazione e che noi tutti siamo in una simulazione, perciò deve esserci un qualche tipo di controllo su questa simulazione. Quindi ci sono molte risposte che vi vengono date sul futuro. Dio controlla il futuro? Come definite Dio? Questa è un'altra domanda. E vi abbiamo detto che, potete definirlo come volete, è la sorgente creatrice che ha creato voi, che ha creato l'amore, la gioia che è su questo pianeta, e la dualità che è su questo pianeta. Tutte queste cose vi sono state date in modo che abbiate il libero arbitrio. Quindi il creatore vi ha dato il libero arbitrio. Quindi dire che il creatore controlli il futuro sarebbe un ossimoro. Non funziona così. È un'idea che va in conflitto con se stessa. Ma ci sono dei motivi se questa domanda viene fatta. Ve ne dirò uno. Crayon ha detto che non c'è alcuna manomissione del futuro. E che Dio lascia l'umanità da sola a cercare il proprio centro, a cercare la propria illuminazione, la propria evoluzione o regressione. E non ci mette mano su questo. Però ci sono state canalizzazioni in cui è stato detto che le invenzioni sul pianeta vengono date all'umanità quando sono necessarie e non prima. Questo significa controllare il futuro? Oppure vi vengono dati gli strumenti quando siete pronti e voi poi create il futuro? Questa forse è una domanda esoterica. Quanto è reale tutto questo, questa idea? Chi ama studiare la storia della tecnologia ha trovato qualcosa di eccezionale. Ha scoperto che ci sono delle anomalie nell'evoluzione della tecnologia. Cose che magari avrebbero dovuto essere ovvie non sono mai state sviluppate. Come per esempio il fatto che i cinesi abbiano avuto gli aquiloni per migliaia di anni prima che i fratelli Wright dissero scommetto che possiamo applicarlo ad una macchina. C'è qualcosa che dovreste sapere sui fratelli Wright, qualcosa che vi ho già detto. Essi furono i primi a fare un volo a motore per una certa distanza e hanno fatto la storia del mondo e sembrano essere coloro che hanno inventato il volo a motore. In realtà hanno battuto i francesi di due settimane perché la scoperta stava avvenendo già in tutto il mondo nello stesso momento, apparentemente. E non con un processo di evoluzione un passo alla volta, come potreste aspettarvi. Invece è arrivato tutto insieme come se fosse arrivata una qualche forma angelica sul pianeta e abbia detto, ok, ora siete pronti e abbia dato all'umanità quello che poi avete sviluppato. E questo è accaduto sempre così. Sapete, l'elettricità non è difficile da immaginare ma ci ha messo davvero tanto tempo per arrivare e ancora oggi ci sono delle controverse su chi l'abbia inventata perché è arrivata in tutto il mondo nello stesso momento. Voi avrete il vostro inventore preferito che sia Edison o qualcun altro e così è stato anche per la radio. La scoperta è stata molto controversa è arrivata tutta insieme nello stesso momento ed è talmente ravvicinata la sua invenzione da parte di due uomini che persino oggi ci sono delle discussioni su chi l'abbia davvero inventata tra i due. e quindi quello che sto facendo adesso è darvi alcune informazioni e se fosse vero che le invenzioni vi vengano trasmesse quando ne avete bisogno e va anche oltre questo come ho già detto è in arrivo per voi la prossima grande scoperta e ci sono molti sulla strada intendo che ci sono già molti precursori di questo ma il principale sta per arrivare e allora sarà il padre di molti altri. La rivelazione sarà quella di essere in grado di percepire vedere, operare e inventare con la multidimensionalità. Voi siete una creatura multidimensionale voi sedete lì mentre ascoltate questo nelle quattro dimensioni altezza, larghezza profondità e tempo e tutte queste hanno in comune il fatto che sono variabili e lo scienziato Einstein vi ha mostrato che il tempo non è quello che pensavate è variabile e diventa una dimensione e dunque voi siete qui nelle quattro dimensioni però i fisici vi stanno dicendo che ce ne sono molte di più forse 20, 30, anche di più in base alla definizione di dimensione i fisici dicono che ce ne sono molte i fisici studiano le cose quantiche e multidimensionali che sono al di fuori delle quattro dimensioni esistono persino i biologi quantistici cosa vi dice questo? la vostra struttura cellulare incomincia a venire vista come multidimensionale questi sono gli studi attuali è possibile che possiate vedere le altre dimensioni e carissimi questo non è strano come sembra ma vi dirò quello che arriverà è una rivelazione talmente importante che non vi è ancora stata data perché l'avreste resa un'arma vi ho invitato tante volte a pensare a questo è possibile che ci siano cose all'orizzonte pronte per esservi trasmesse per creare elettricità ed energia senza inquinare per togliere la fame e la sete dal mondo produrre cibo e acqua pulita tutto questo sta arrivando ma perché non è ancora mai arrivato? cosa che l'ha bloccato? perché ciascuna di queste cose ha qualcosa a che fare con il magnetismo è un altro tipo di forza o attributo multidimensionale se vogliamo chiamarlo così che è sempre stato qui è sempre stato qui vi invito ad osservare una cosa quando vengono scoperte nuove tecnologie cose che sono davvero nuove non l'evoluzione di ciò che già avete non un nuovo sistema di computer o di memoria più veloce sto parlando di qualcosa di nuovo quando inizierete ad osservare queste cose scoprirete un attributo ed è questo era sempre stato qui e chiunque l'abbia scoperto e ci stia lavorando sopra l'ha trovato negli antichi oppure nel quaderno di lavoro di qualche inventore noto ecco cosa vi sto dicendo il vostro pianeta è davanti a voi con tutto ciò di cui possiate mai aver bisogno senza inquinare tutto quello che vi serve per nutrire le persone e anche i miliardi di persone che arriveranno non avranno fame ci sono cose qui che non vi sono ancora state date perché per poter vedere le cose multidimensionali ci dovranno essere delle enormi rivelazioni su chi siete immaginate un momento di ricevere qualcosa che vi permetta di vedere la multidimensionalità e voi direte è fortissimo è bellissimo ma cosa accade quando girate lo strumento e guardate un essere umano vedrete cose che andranno in contrasto con tutto quello che vi è stato insegnato su chi siete e sul perché siete qui si riveleranno le parti e gli elementi della vostra stessa anima capite perché potrebbe essere un problema se non c'è una coscienza evoluta sul pianeta pronta ad accettare e a permettere questo carissimi io vi amo tutti e vi sto dicendo la verità Dio crea il futuro no lo fate voi ma lungo il cammino ci sono per voi delle spinte al miglioramento da poter utilizzare questo perché lo spirito è innamorato dell'umanità e così anch'io siete benedetti per aver ascoltato e così è